Ciao raga, vi porto in viaggio fantastico sugli sci dall'italica Cervinia con la sua Platò Rosà 3005, scavaliamo in Svizzera, andiamo a 3009 su un ghiacciaio meraviglioso e scendiamo fino a Zarmatte e facciamo tutto attorno in compagnia del Ciano e del Cervino con presenza costante su tutte le piste, tutti i lati le abbiamo viste e adesso giù a tutta che ci divertiamo a palla! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!